Allora, buongiorno a tutti, presentazione del bando servizi digitali integrati da parte appunto della regione Marche, servizio informatica digitalizzazione, presente con me la dottoressa Serena Carota, dirigente del servizio digitalizzazione, però è presente anche per il pubblico, ma se vuole venire qui con noi la dottoressa Paola Marchegiani, la dirigente del servizio turismo, perché comunque come vedremo parliamo di una azione di fatto dove la digitalizzazione è in un certo senso lo strumento ed è ormai lo strumento per eccellenza per poter promuovere e valorizzare il nostro territorio e anche in chiave turistica, ma non solo come questo bando in un certo senso è l'oggetto di questo bando. Allora, partiamo dalla cifra complessiva, sono 7 milioni di euro che la regione Marche ha messo a disposizione questo bando attraverso la programmazione POR-FESR 2021-2027. E' il primo bando, noi già sapete che siamo entrati nella programmazione che è 2021-2027, ma di fatto è partita quest'anno, nel 2023, già con altri bandi che riguardano l'energia, attività produttive, turismo e altro. Questo è il primo bando POR-FESR 2021-2027. E' importante sottolineare questo aspetto, i comuni sono i presidi istituzionali fondamentali del nostro territorio. Sappiamo quanto siano dei punti di riferimento fondamentali anche per la regione Marche, perché attraverso il collegamento, attraverso l'interazione con i comuni, riusciamo a captare anche dal punto di vista proprio di antenne sul territorio quelle che sono sostanzialmente le esigenze, quelle che sono i fabbisogni del territorio, quindi sono i maggiori ovviamente interpreti che si rapportano direttamente con i cittadini. Quindi tutta una serie di opportunità che i comuni possono intercettare attraverso un voucher, quindi un sistema diretto di contribuzione, di agevolazione di 45 mila euro, fino a un massimo di 45 mila euro per comune. Questo perché? Perché l'idea è cercare di sostanzialmente intervenire il più possibile in diversi comuni. Abbiamo calcolato, mi sembra che alla fine saranno 155 i comuni, esattamente, 155 i comuni che saranno beneficiati di questo intervento. Che cosa? Allora, innanzitutto premessa, diciamo, il tutto rientra in una strategia ovviamente molto più ampia, in una strategia che da un lato vede proprio lo strumento della digitalizzazione come ormai fondamentale, come dicevo prima, per da un lato abbattere un po' le distanze. Sappiamo che soprattutto in determinati contesti, in determinati luoghi, immagino quelli più vicini, diciamo, alle zone aree montane, dove spresso le infrastrutture, i servizi ovviamente non hanno la stessa efficacia, la stessa efficienza di altri luoghi, è fondamentale sotterire anche a certe mancanze attraverso una rete, chiamiamola infrastruttura digitale, dove appunto si possono avere dei servizi simili utilizzando il digitale. Ormai in tutto, io lo vedo avendo diverse deleghe, quindi spaziando anche dalle attività produttive all'agricoltura, ormai la digitalizzazione è un elemento imprescindibile, legato fortemente anche al concetto di innovazione, al concetto anche di smart city, di semplificazione, di ottimizzazione. Ormai nulla, diciamo, può essere immaginato, pensato, se non ci sia contestualmente anche una, diciamo, un utilizzo, una capacità di utilizzo e di conoscenza del sistema, dello strumento digitale. Tra l'altro, apro una parentesi fondamentale, il bando precedente a questo, di questa regione, con altra fonte di finanziamento che era, diciamo, del PNRR, ha riguardato le bussole digitali, ovvero la formazione attraverso dei presidi proprio di personale formato in vari luoghi, tra cui soprattutto comuni che hanno aderito a questo progetto, di facilitatori, diciamo, dove c'era la possibilità, dove c'è la possibilità di accedere a un livello di formazione, informazione di tutto quello che è il sistema digitale. Io lo dico spesso, prima ci siamo incontrati con alcuni sindaci, assessori, dirigenti dei comuni, ovviamente che è più grandicello, tipo il sottoscritto, non siamo nati nella, diciamo, generazione nell'era del digitale, quindi rispetto ai più giovani che invece hanno una familiarità diversa, essendoci nati, è importante anche un discorso di formazione per, diciamo, delle classi più adulte della popolazione. Questo perché ci riguarda ormai tutti quanti, soprattutto l'accesso a determinati servizi, parliamo spesso di speed o di altre cose, riguarda sia il singolo cittadino, ma anche le imprese. Ormai qualsiasi domanda passa attraverso internet, dei moduli che sono scaricabili, e tra l'altro quello che non passa, magari si può anche avere in forma cartacea, ma prevede più tempi, tempi più lunghi, tempi più difficili, pensiamo anche al sistema, diciamo, anche bancario, i conti bancari, cioè ormai è indispensabile avere una gestione, una capacità di utilizzare certi strumenti. Quindi la Regione Marche si è, da questo punto di vista, ben attrezzata, noi abbiamo degli obiettivi importanti attraverso quel bando precedente, appunto le bussole digitali di informazione e formazione della popolazione rispetto all'uso del digitale, e adesso stiamo passando con tutte, quindi era una premessa necessaria, perché è un percorso questo, e adesso siamo passati a una fase immediatamente, diciamo, successiva, che è questa di alcuni bandi, tra i quali questo dei progetti di servizi digitali integrati. Quindi, i comuni che cosa possono fare attraverso, diciamo, questo voucher di 45 mila euro? Possono intervenire su un paio di ambiti, un ambito che riguarda sostanzialmente la valorizzazione del proprio territorio, sia sotto, diciamo, l'aspetto più propriamente turistico, appunto non a caso, come dicevo prima, è qui presente con noi anche la dottoressa Marcheggiani, che appunto ha collaborato con un progetto che è appunto coordinato, proveniente dal settore della digitalizzazione della dottoressa Carota, qui alla mia sinistra, fondamentale appunto perché ormai passa tutto per internet, no? Lo diceva prima appunto la stessa Paola in una riunione che abbiamo fatto. Qualsiasi prenotazione dal punto di vista turistico, un albergo è ormai, ma anche le comunicazioni stesse con le agenzie che poi magari a loro volta lo fanno, ma è tutto ormai un servizio che si fa attraverso email, internet eccetera. Quindi, importante avere la possibilità da parte dei comuni di coinvolgere, di valorizzare attraverso l'uso appunto web con itinerari tematici appunto il proprio territorio, anche altre associazioni per la valorizzazione e progetti che riguardano il turismo. Accanto a questo c'è anche la parte delle vetrine promozionali, così l'abbiamo chiamate, le stiamo chiamando in questo percorso appunto di valorizzazione del territorio, che riguarda anche la possibilità di far conoscere il proprio territorio attraverso anche gli aspetti, diciamo, attraverso il web e il digitale, anche gli aspetti più commerciali, i negozi, gli artigiani presenti. Sappiamo che in tanti borghi, ma anche in tante città più grandi ci sono delle presenze incredibili di artigiani qualificati che però non sempre hanno la giusta valorizzazione. Quindi attraverso questo progetto si possono creare veramente delle reti locali cittadine dove vengono, gli viene data una vetrina digitale per la promozione del proprio lavoro, dei propri prodotti. E poi parliamo anche di turismo esperienziale. Turismo esperienziale che ormai caratterizza la nostra regione in modo particolare. Noi tra l'altro stiamo facendo e abbiamo fatto alcune leggi importanti tipo l'enoturismo, faccio un esempio, adesso l'olio turismo, ecco, possono essere messi in rete utilizzati per conoscere anche queste esperienze di turismo che in sostanza che cosa fa? Da un lato il comune appunto coinvolge magari delle aziende, delle imprese, perché parliamo di una forte connessione pubblico-privata attraverso questo progetto. Quindi la può coinvolgere e allo stesso tempo però una promozione stessa del territorio. Immaginiamo appunto l'enoturismo, di fatto un'azienda vitivinicola può fare accoglienza turistica di turisti che sono interessati al vino, per fare un esempio, però allo stesso tempo vengono a conoscere la cantina, vengono a vivere un'esperienza diretta, ma poi il beneficiario non è solamente la cantina, ma è tutto il territorio ovviamente più vasto perché poi magari andranno a dormire in un DMV vicino, conosceranno, andranno al museo cittadino, si muoveranno nel territorio. Quindi anche i comuni saranno interessati ovviamente a valorizzare, implementare questo tipo di turismo. L'altro ambito, il secondo ambito, è quello delle smart siti. Ormai anche qui, come dicevo, accernavo prima, c'è tutto un processo che anche sta coinvolgendo le marche. Io lo sto attraversando anche con altri strumenti, diciamo altre idee, che tipo quella dell'energia. Cioè la possibilità di creare delle città che abbiano una gestione attraverso la digitalizzazione molto più intelligente, più ottimizzata, dove c'è anche un risparmio energetico, un controllo di vari dispositivi e questo si può fare attraverso anche una digitalizzazione complessiva delle città. Anche questo progetto, questo bando finanzia interventi appunto per le città intelligenti. E alla fine, mi rifaccio un po' al primo discorso, al primo bando di cui parlavo, quello della facilitazione digitale, c'è anche la possibilità di utilizzare questi fondi da parte dei comuni per semplificare delle, diciamo, i servizi, l'interazione tra la pubblica amministrazione e il cittadino attraverso i servizi che i comuni erogano, non so, tipo la carta di identità digitale o altre o altre, elettronica o altre cose che appunto i comuni mettono a disposizione, sempre parliamo, argomento è sempre quello della digitalizzazione dell'informatica appunto a favore dei cittadini. Ecco, quindi ricapitolando, bando di 7 milioni di euro, l'apertura del bando è il 26 di agosto, la chiusura è il 24 di novembre, quindi ci sono ben tre mesi, i beneficiari sono solo i comuni, quindi i comuni dovranno presentare dei progetti dove ci sarà poi un punteggio anche relativo, una diciamo sorta di autovalutazione che riguarderà i comuni, dove molti punteggi saranno date anche in base ai protocolli, alle convenzioni che già i singoli comuni hanno già stipulato con la regione Marche. Faccio un esempio, perché tanto ormai l'ho preso come punto di riferimento, il bando delle bussole digitali, i comuni che ne sono circa, mi sembra una sessantina, 74 in totale, mi sembra i comuni 64 pure, insomma comunque tra i 60 e i 70 comuni che hanno aderito ovviamente hanno un punteggio perché già hanno partecipato e hanno aderito attraverso un bando, una stipula, una convenzione con la regione, ovviamente il tema è sempre quello della digitalizzazione. Poi dovranno essere presentati dei progetti, più ci sarà ovviamente il coinvolgimento della parte imprenditoriale, sociale, culturale del proprio territorio, del proprio comune, ovviamente anche qui ci saranno dei punteggi importanti. Le spese, i progetti fino a massimo di 45 mila euro, la regione diamo il 100% del finanziamento, poi ovviamente uno può presentare anche progetti più ampi, anche di risorse, anche progetti di 100 mila euro, faccio un esempio, però diciamo il finanziamento arriva fino ai 45 mila euro che finanzia il 100% perché se c'è un progetto da 45 mila euro viene, non ci sono delle quote d'accollo in sostanza, se c'è un progetto da 45 mila euro viene finanziato fino alla totalità delle 45 mila euro. Per quanto riguarda dettagli più tecnici, se ci sono delle domande c'è la dottoressa Carota qui pronta a rispondere, altrimenti abbiamo già oltre che incontrato prima di questa conferenza stampa sindaci, come dicevo prima, alcuni sindaci, alcuni assessori, alcuni funzionari, proprio intanto per illustrare loro un po' più nel dettaglio il progetto, poi addirittura il 31 di agosto ci sarà una riunione proprio specifica perché loro adesso hanno il bando, hanno tutti i dettagli, ovviamente matureranno probabilmente delle così richieste, delle delucidazioni e quindi in quel contesto gli verrà praticamente, verranno, si parlerà del Digital Lab Marche, di HM, Destination Management System, eccetera, che sono appunto tutte le diciamo azioni che la regione Marche ha messo in campo a sostegno della diffusione digitale sul territorio. Io ho concluso, quindi non so se dottoressa Carota se ho lasciato qualcosa vuole aggiungere oppure se ci sono delle domande, siamo qui a rispondere. Grazie. Allora, a posto così, spero che... non so, dottoressa Carota puoi aggiungere... Bene, va bene, meno male, siamo stati chiari, chiudiamo così, ringraziamo tutti, perfetto, speriamo di leggere la notizia, no, è importante adesso, a parte tutto, che noi ovviamente scriviamo, abbiamo già scritto e scriveremo i comuni, però è giusto che ecco la notizia arrivi e si diffonda il più possibile perché veramente sarebbe un grande dispiacere, no, che capita che qualche comune... ma io non sapevo nulla, ecco, cioè noi mandiamo le mail, purtroppo io vi assicuro e mi sono accorto che non sempre le mail vengono lette da tutti, purtroppo, magari alcuni comuni, forse alcuni troppo grandi si disperdono tra alcuni estremamente piccoli, hanno magari difficoltà, quindi più riusciamo in qualche modo a diffondere la notizia e in più, adesso a parte tutto, veramente, questo lo dico fuori anche dal contesto, diciamo, di conferenza, noi dobbiamo cercare il più possibile ormai di far arrivare certi messaggi tra la popolazione, cioè sia tra gli enti, tra le istituzioni che è fondamentale perché dirigono in qualche modo e condizionano, diciamo, positivamente, però anche tra la popolazione, cioè ormai realmente la digitalizzazione è un qualcosa con cui dobbiamo e faremo conto quotidianamente da qui, già lo stiamo facendo, ma sarà sempre di più, no? Se arriviamo addirittura a parlare dell'intelligenza artificiale che fra qualche anno sostituirà il 60-70% del tipo di lavoro, quello intellettuale, ormai questi sono i dati, perché ci saranno tutta una serie di sistemi che attraverso dei processori velocizzeranno risposte e quant'altro in maniera assolutamente estrema e tra l'altro efficace, quindi noi ormai è un mondo che per chi è un po' più adulto c'è una certa difficoltà, ma io mi rendo conto perché io sono il primo, però è fondamentale che diventi quasi pane quotidiano, proprio anche per esempio a livello imprenditoriale delle imprese, se vogliamo avere delle imprese competitive, le imprese non possono ormai parlare il linguaggio della digitalizzazione. Un'impresa che non utilizza lo strumento della digitalizzazione è un'impresa che sta indietro anni luce, sia a livello proprio dei prodotti, lavorazione del prodotto, ma anche nella gestione dei processi di lavorazione, di gestione della propria azienda, se non per arrivare poi proprio anche alla commercializzazione. Ormai internet è fondamentale. Io ho visto, ci sono determinate fiere, faccio un esempio, dove molto selezionate, dove invitano delle aziende solamente come le possono conoscere, come le possono valutare attraverso Instagram e i profili social. Quindi anche questo, bisogna veramente lavorare perché ormai passa quasi tutto e passerà sempre più tutto sul web, neanche dal punto di vista delle immagini dei comuni. Ormai la gente guarda tutto su internet, quindi fa delle scelte. Quindi io decido di andare in quel posto perché ci sono determinati servizi, ma io lo scopro andando a cercare, facendo la ricerca su Google e mi accorgo di determinare. Quindi devono essere anche dei prodotti di immagine, di qualità, dove il servizio è importante, ma anche come viene presentato e la facilitazione d'accesso a quel servizio. Quindi è fondamentale ormai. Quindi dobbiamo cercare sempre di più di farlo entrare nelle teste delle persone come se fosse una formazione, anzi ovviamente sarebbe da portare a scuola come in materia. A parte gli alunni, siamo più per noi, per non rimanere troppo indietro. Bene, grazie. Grazie. Grazie.